Un progetto sul dissesto idrogeologico che vale 5 milioni di euro. La parte che ha incuriosito più di tutte è quella che riguarda la Via Italia, quindi la roggia che di fatto c'è. Cerchiamo di capire insieme al Vice Sindaco un pochino meglio di che cosa si tratta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che è un progetto complessivo di 5 milioni di euro, di cui come giustamente detto 3 milioni per quanto riguarda la questione di Via Italia, 1 milione e 650 per la sistemazione della Busancano e 350 mila per il dissesto idrogeologico nel parco della Burcina. Andando nel dettaglio sulla parte di Via Italia, diciamo che il far riaffiorare la roggia esistente rappresenta una minima parte del progetto, che è un progetto ben più complesso, ovvero quello di ripristinare l'antica roggia che passa al dissesto di Via Italia dall'inizio, quindi dalla riva, a scendere giù fino a Piazza Vittorio Veneto. Verrà rimessa, verrà rifatta il passaggio di questa roggia, verrà intubato nelle parti dove sono state danneggiate dal tempo e si pensava nell'ultimo tratto, quindi nella parte di Piazza Vittorio Veneto, di far riemergere questa roggia per farla vedere ai cittadini. Ora si deciderà se tramite un vetro nella pavimentazione o tramite proprio farla riaffiorare all'aria aperta. Perché si è pensato questo? Perché non dobbiamo dimenticare che l'acqua è un elemento fondamentale del nostro biellese, ovvero è un elemento che ha dato ricchezza grazie all'insediamento tessile sull'asta del cervo e queste rogie hanno proprio contribuito alla nascita della fondazione della città di Biella, perché inizialmente era un elemento molto importante. E farla riaffiorare, farla vedere ai cittadini al giorno d'oggi le nostre origini, io penso che sia una cosa positiva per la città e anche di attrazione. Allora, tra l'altro ci raccontano anche magari i nostri nonni che quando la roggia era attiva aveva anche una funzione, ad esempio si nevicava moltissimo nella Via Italia, veniva liberata per far scioldere la neve, insomma c'era anche una funzione. Sì, sì, nell'epoca anche attraverso fotografie storiche si diceva che quando c'era la neve o per pulire la strada veniva aperta questa roggia che portava via tutto e poi si richiudeva. Adesso questa roggia è stata interrata e quindi passa nel sottosuolo, quindi saranno a fare delle opere di scavi eccetera. Ovviamente andando a intervenire lì interveremo anche sui sottoservizi, quindi mettere a posto la fognatura eccetera. E quando dovrà essere richiusa verrà rifatta anche la pavimentazione di Vietaglia, che è un nostro progetto sin dalla campagna elettorale. Una pavimentazione di Vietaglia che adesso dobbiamo ancora vedere come farla, ma si pensava a renderla più appetibile, più usufruibile e anche con un arredo urbano migliore. Ecco, parliamo della zona di Piazza Vittorio Veneto, però non è arenato il progetto per il rifacimento di quella zona oppure sì? No, 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 quel progetto di Piazza Vittorio Veneto va avanti, sta seguendo la sua strada. Ovviamente con questa novità dovranno essere messe in correlazione i due progetti per renderli uniformi e più appetibili da un punto di vista strategico e quindi si pensa appunto di far rifiorire questa roggia ovviamente in un punto dove poi la strada sarà chiusa, quindi dalla parte di Piazza Vittorio Veneto, non prima sicuramente, quindi dalla Fons Vite a scendere. E lì vedremo di come correlare in modo migliore i due progetti per far diventare una cosa che sia simbolica ma anche bella da vedere. Grazie a tutti.